Qui se non si torna indietro e si richiama De Rossi si fa un disastro, un disastro, perché una cosa del genere non deve essere accettata da nessuno, cioè io mi aspettavo giocatori, tifosi, chiunque andasse contro questa scelta per dire pieno rispetto a Juric, grande persona, grande uomo, ma no, questo non succede, perché io le palle in testa da una greca e da due americani non me li faccio mettere. Buongiorno amici romanisti e bentornati sul canale Roma Fans, io sono Rudy Slatan e come vedete oggi il mio umore è un po' più grigio, perché? Perché è normale, perché ci siamo rotti i coglioni, ma prima di parlare di questo vi ricordo di seguirmi sui social, non solo Rudy Slatan, ma soprattutto i social Roma Fans, perché abbiamo aperto una pagina Instagram, soprattutto in collaborazione con il mio amico Damiano, quindi mi raccomando seguiteci lì e adesso entriamo nel discorso caldo, nel discorso difficile e nel discorso bollente. Prima di tutto, io penso un po' tutti, ci stiamo disamorando, non tanto della Roma, ma proprio di questa Roma qui, quindi di tutto quello che gira intorno a questa stagione, di tutto quello che è successo, di tutto quello che ci dobbiamo sobbarcare in quanto tifosi e che dobbiamo sopportare, e cercare anche di supportare, perché poi quello è principalmente il nostro ruolo. Ci siamo rotti i coglioni perché non vediamo assolutamente luce, non abbiamo una prospettiva futura interessante o quantomeno non riusciamo a vederla e la situazione è peggiora di partita in partita. Ora, prima del Verona, quindi post Torino, prima di questa partita qui, io ero molto positivo perché ho già spiegato che immaginavo un chiarimento tra la Rosa e l'allenatore e la società, cioè la Rosa probabilmente avrà chiesto a gran voce il ritorno di De Rossi, gli è stato fatto capire che assolutamente non potrà mai succedere e quindi tutti si sono messi un po' l'anima in pace di continuare con Iuric. Secondo me, io ancora sono convinto che sia quello che è successo in realtà nello spogliatorio perché ha un popular opinion, cioè non sarò popolare, io ho letto tanti commenti e sono figli naturalmente del mancontento, del fatto che a tutti rode un po' il culo, che non ci va più di vedere la Roma così, che non vediamo futuro, che abbiamo lo stomaco sotto sopra e quindi è chiaro che poi i commenti vengano lì, ma sì, io ieri ho rivisto la partita dopo che è finita, me la sono rivista sapendo già il risultato, quindi potendo vedere un po' effettivamente quello che è successo, come ha reagito la Roma, come ha giocato, quali sono stati i problemi principali. Il problema non è la partita di ieri, perché secondo me nella partita di ieri questa è l'unica volta che sono d'accordo con Iuric nel dire episodi sfortunati, abbiamo giocato bene, ci ha detto male. L'unica volta nella stagione in cui ha detto praticamente ogni domenica, ogni partita, ha fatto queste comunicazioni un po' che dietro c'era la casa che bruciava, diceva no, no, tutto bene qua, tutto bene, sta a crollare il tetto, tutto bene. Adesso devo dire che mi trovo d'accordo la sua analisi, perché analizziamo la partita di ieri, secondo me la Roma è entrata con il figlio giusto, ha provato a fare la partita nella maniera giusta, poi c'è quel regalo da parte di Zaleski che è veramente inspiegabile, perché Zaleski ha fatto anche, anche ieri comunque, tolto quella cazzata enorme che naturalmente va a cancellare tutto, fa anche una buona partita, ma è inspiegabile, non si può vedere una cosa del genere, io sinceramente non ricordo mai di aver visto una cosa simile, intanto il mio gatto spacca tutto, e quindi è proprio una cosa fuori dal mondo, fuori dal mondo. Per quello, per quello, io come altri, anche se continuavo a dire, cioè continuavo a dire, mi rendo conto della situazione di Roma, in questo momento evidentemente ti dà più garanzie, però è per questo che quando vedi lo stesso Celic o Zaleski in campo, non stai tranquillo, perché queste cose qui te le puoi aspettare, e purtroppo è così, quando... mia nonna diceva sempre, chi va a letto con i bambini si risveglia smerdato, eh ragazzi, se vai a fare, se vuoi fare il banchetto con Zaleski e te risvegli 1-0 per loro, cioè, è così, è così, purtroppo questi sono fatti, magari non succede in una partita, magari non succede in due, ma la terza succederà, e purtroppo questo è il livello dei calciatori, e forse qui il più grande errore di Juric è proprio nell'aver puntato in quella direzione lì, in questo momento, però ecco, a livello globale, o come intensità di prestazione, come voglia di fare la prestazione, come prestazione stessa, la Roma non ha fatto così male, arriva quel gol di merda per una... non sanno neanche come nominarla, come descriverla, sta cagata che ha fatto Zaleski. Il secondo gol arriva da calcio d'angolo in cui sei, sicuramente non attentissimo magari a marcare, però, gomitata andica, blocco sul tuo portiere, ci sono due falli, due falli, in epoca vale, due falli, neanche tanto dubbi, cioè, posso stare sul dubbio più sì che no, per quanto riguarda il blocco sul portiere, ok, ma la gomitata è... non c'è nemmeno di discuterne, cioè, non si deve nemmeno discutere, cioè, gomitata, si vede, gomitata, fermo immagine, fallo. C'è il VAR, ragazzi, c'è il VAR, con noi non funziona mai, c'è il VAR ma con noi non funziona mai, e allora questa è una cosa che anche ci siamo rotti i coglioni, poi è normale che, siccome il momento è difficile per tante altre cose, siccome i judici non lo possiamo vedere, perché onestamente è anche brutto da vedere, e siccome non vediamo futuro, siccome siamo avvelenati con la società, siccome eccetera eccetera eccetera, e allora queste cose passano in secondo piano. Ma non dovrebbe, cioè, io, per carità, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, ma no, ma sai, nel calcio gli errori poi si compensano, si compensano un cazzo, cioè, in questo momento la Roma sta avendo soltanto... No, non è vero, c'è stato anche un episodio, per esempio, con l'Inter di Cristante, che aveva travolto un calciatore mentre andava praticamente in porta, poteva essere fallo e rosso, e era stato tralasciato, quindi questo va detto. Però è l'unico episodio che ci ricordiamo pseudo a favore, cioè, per il resto, episodi chiari, evidenti e chiari, contro la Roma sono stati tanti, e quello di ieri è l'ennesimo. Comunque una Roma che, dopo quella cazzata di Zalewski, riesce a pareggiarla con un gol di Sule, anche un po' fortunoso, chiamiamolo distinto, perché comunque lui il piede per fare il tacco lo muove, però, ecco, diciamo, un po' fortunoso quel gol lì, ma si è visto lo spirito romanista, il volere stare attaccato alla partita, il volere portarla a casa, il volere a tutti i costi questi tre punti. Dopodiché, prendi questo 2-1 dove ci sono due falli, praticamente, e la partita si complica, riesci in qualche modo ancora a tornare in partita, quindi con la voglia di stare attaccato, riesci a pareggiare, addirittura segni due gol in una partita che a noi sembrava impossibile per noi fare una cosa del genere, poi, e poi dopo prendi un altro gol. Naturalmente non sto difendendo il lavoro di Juric, non sto difendendo la Roma di quest'oggi, sto solo dicendo che il problema vero e proprio non è nemmeno la partita di ieri, perché la partita di ieri si può perdere, nel senso che a volte ti dice male e la perdi, anche se la Roma ha dei problemi, per esempio, ogni volta che ti attaccano centrale e in verticale vanno in porta, questo è un problema grave, però la partita di ieri, secondo me, 9 su 10, la Vinci, non è quello tanto il problema, perché gli episodi fanno tanto, il problema di questa situazione che stiamo vivendo parte soltanto da una cosa, la radice del problema della Roma sono i fricchi, è la proprietà, hanno fatto i danni da inizio stagione, e ieri, mi dispiace dirlo, ma è così, vince il Verona con la Roma perché vince la società, la proprietà del Verona contro la proprietà inesistente della Roma, punto e basta. Il Verona veniva da 6 sconfitte nelle ultime 7, aveva perso 6 a 1 con l'Atalanta, quindi avevano ogni scusa per cacciare l'allenatore, evidentemente fiducia al progetto, fiducia all'allenatore che abbiamo scelto, fiducia alla squadra che può risollevare le sorti di questa stagione, si dà continuità e si va avanti, perché non abbiamo creato una squadra, evidentemente c'è questa consapevolezza, non abbiamo creato una rosa da Champions League, siamo il Verona, ci dobbiamo salvare, stiamo avendo delle difficoltà, ma il campionato è lungo, possiamo sopravvivere. E che cosa succede? Vincolo con la Roma, 3 a 2, hanno rubato qualcosa? No, perché comunque hanno fatto la loro partita, cercando di limitare il possesso della Roma, e cercando di andare in verticale quando possibile, non hanno rubato niente, hanno fatto una signora partita, si sono meritati i loro tre punti, a casa. Questo anche per dire che la Roma ha giocato bene, poteva vincere, avrebbe vinto probabilmente in molte occasioni, se la ripetiamo questa stessa gara, però non è che il Verona è rubato, quindi non è che è stata una partita dominata, che diceva, è un scroscio di applausi nonostante la sconfitta, quello no. Però questa è la differenza della società. Un altro discorso da fare, perché poi torniamo sempre lì, Palladino adesso è quarto in classifica con 19 punti, e sta a tre punti dalla vetta della classifica, se non sbaglio, o quattro. Comunque sia, è vicinissimo al primo posto in classifica. E nelle prime quattro giornate, quando De Rossi è stato esonerato, era partito malissimo, malissimo, tant'è che in molti dicevano, ah, tutte le certezze della scorsa stagione stanno un po' cadendo, perché guarda Italiano, guarda Palladino, guarda De Rossi, e insomma, sembrava quello il trend, no? Però ragazzi, il calcio non è così, il calcio non è, cioè Roma non è stata costruita in un giorno, e nel calcio funziona così. Lo stesso Antonio Conte, lui, la prima partita la perde 3-0, ma non puoi guardare il piccolo, il breve percorso per poter capire come andrà a finire nel totale, cioè tu devi dare tempo, bisogna dare tempo, e questa società purtroppo, con quella scelta di esonerare De Rossi dopo quattro giornate, senza senso, diventando la barzelletta non solo di Roma, non solo dell'Italia, ma del mondo, perché quella scelta lì ha fatto il giro del mondo, e ci siamo fatti prendere per il culo da chiunque. Io sfido a trovare una persona addetta ai lavori, o comunque che segue il calcio, che fa quello di mestiere, e quindi che non è un tifoso da tastiera, o così sembra quasi offensivo, ma un tifoso che ci sta dentro, e quindi con le emozioni, giudica un qualcosa in cui non riesce ad essere oggettivo, ma un signore qualsiasi che lavora nel mondo del calcio, che avesse speso una parola di conforto per la proprietà, o di appoggio per la proprietà della Roma, per aver sollevato dall'incarico De Rossi, e questo non è perché De Rossi ha la vena, è il capo popolo, è perché non si può di niente sulla bandiera, non è così, è proprio che non ha senso, quello che ha fatto la Roma non ha senso, da nessun punto di vista. Prima di tutto, De Rossi arriva lo scorso anno, e fa un'ottima, un'ottima stagione. La Roma non era scontato, che sarebbe arrivata ancora in fondo in Europa League, e arriva a un passo dalla finale di Europa League ancora, per il terzo anno consecutivo, sarebbe stato. Non era scontato, che la Roma riuscisse, a prendere un passo importante in campionato, perché quando arriva De Rossi, la Roma stava facendo malissimo, e la Champions League, è vero che era, se non sbaglio, a sette punti, ma c'erano 28 squadre in mezzo, quindi è chiaro che, un conto fare la corsa a una squadra soltanto, un conto è farla a tante, tu devi vincere, 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 e sperare che le altre perdono, per poi superare tutti. Da quel momento lì, il Bologna non si è più fermato, l'Atalanta non si è più fermata, e la Roma, nonostante tutto, prima di quel trittico, che poi non è trittico, ma è un sistico, non so neanche come nominarlo, c'erano 6-7 partite, tutte attaccate, concatenate tra campionato, e d'Europa League, tutte sfide di altissimo livello, Napoli, Milan, Juve, Atalanta, e Bayern de Verkuchen in mezzo, prima di quelle partite lì, la Roma era in grandissima corsa, grandissima corsa, però, dividiamo un attimo il problema, perché adesso, viene fatto passare, come le 4 partite di quest'anno, e quelle partite dell'anno scorso, si unisce tutto insieme, per dire che De Rossi è un allenatore scarsissimo, e non può stare in Serie A, però attenzione ragazzi, i problemi vanno analizzati, cioè, i numeri, sono numeri sempre, sì e no, nel senso sì, sono numeri, ma vanno anche presi, nel contesto, allora, la Roma dello scorso anno, la rosa della Roma dello scorso anno, era una rosa completa, centrocampo, attacco, esterni, terzini, difensori, era una rosa completa, forte, da poter competere per le prime 4 posizioni, forte per competere, nelle prime 4 posizioni, andando fino in fondo in Europa, o era una rosa che, evidentemente, aveva delle lacune, dal punto di vista numerico, numerico, si parla, con calciatori che, e cito anche di bala, su questo discorso qui, non riescono a fare, tre partite in sette giorni, perché non ce l'hanno proprio nelle corde, cioè ragazzi, questa è la verità, la Roma è arrivata allo scorso anno, in quel momento, anche con un pizzicone di fortuna, perché questo va detto, la rosa, secondo me, non era, tra le prime 4 d'Italia, e quindi ci voleva anche un pizzichino, un pizzichino di fortuna, per fare tanto meglio, rispetto a quanto aveva fatto, prima, eh, Morigno, ma, era arrivata a quelle partite lì, che si stava giocando, non solo il quinto posto, ma il quarto posto, ma il terzo posto, stava in piena corsa, poi, chiaramente, arrivano tutte quelle partite attaccate lì, dove la squadra ha speso tanto per recuperare, dove ti mettono quel recupero di Udine, che ti taglia solo le gambe, hanno fatto una sorzata, dove hai poche scelte, o comunque i calciatori su cui puoi scegliere, non hanno dimostrato granché, e quindi, fai fatica, i vari Avoir, Renato Sanchez, non parliamo di queste cose qui, è chiaro che in quel momento, si faceva fatica. Adesso accorpiamo quella situazione lì, già spiegata adesso, con le prime quattro di Serie A di quest'anno, dove De Rossi ha avuto squadra incompleta, gente che stava andando via, che stavano a cercare a cacciar via, a calci in culo, e poi sono rimasti altri che parlavano con squadra, perché dovevano andare via, ma non si sa, però intanto giocavano, quindi dovevi cercare di creare un gruppo squadra, che andasse in campo per l'obiettivo, quando non si sapeva manco qual era il gruppo squadra, cercavi di portare avanti un mercato, nei primi due mesi, hai portato avanti un tipo di mercato, poi Di Bala ti ha detto, fermi tutti, io non vado via, e allora dietro front, facciamo un altro tipo di mercato, prendo quello, non arriva perché non passa le visie mediche, allora devo prendere qualcuno svincolato, gli prendi quattro giorni dopo che è finito il mercato, c'è prima di quattro giornate di Serie A, dove la Roma fa un pareggio buono a Cagliari, perché comunque prima giornata di campionato, in trasferta, un pareggio ci sta alla grandissima, fa un ottimo pareggio con la Juventus, che in quel momento sembrava una corazzata, stava vincendo contro tutti, e comunque fai un'ottima partita, un pareggio che ci stava soprattutto per il momento, dopodiché sbagli, con l'Empoli in casa, assolutamente quella è la partita sbagliata completamente, tante colpe di De Rossi, sono il primo a dargliele, ma comunque veniva da quella settimana, di Dybala, resta, non resta, quindi diciamo che non era facile gestirla, almeno questo lasciatemelo dire, e poi dopo prendi un gol al 96esimo col Genoa, dove hai fatto un primo tempo spaziale, dove hai creato più in quei 45 minuti, rispetto al resto della stagione con Juric, e prendi un gol al 96esimo, dove c'era un rigore per Dybala che non t'hanno dato, dove c'era quel presunto fallo su Pellegrini, che molte volte viene dato, in quel caso non è stato dato, e poi hai preso gol all'ultimo secondo, all'ultimo respiro di una partita, che stavi vincendo in trasferta, in trasferta non vinci da 48 anni, per esempio, quindi questa Roma, anche con Mourinho, per esempio, aveva delle grosse difficoltà in trasferta, sarà un fatto di mentalità, sarà un fatto di uomini, sarà un fatto di cuore, sarà un fatto di orgoglio, sarà un fatto di palle, io non lo so, però questa Roma effettivamente, ha sempre avuto un problema in trasferta, tu mi cacci via un allenatore, che ha avuto difficoltà da parte del mercato, ha avuto difficoltà da parte della società, che gli ha creato delle difficoltà, ha fatto tre trasferte, e ha fatto solo una sconfitta brutta in casa, cioè, in quattro partite, lo cacci via, quando dall'altra parte, neanche tanto dall'altra parte dell'Italia, ma un pochino più su in Italia, a Firenze, c'è un signor Palladino, che inizia malissimo, tutti pronti a dire, è scelta sbagliata, perché, forse, sai, Palladino non può arrivare, in questo momento, Palladino è quarto, quarto in classifica, la Fiorentina ha inanellato una serie di vittorie, perché? Perché un allenatore bisogna dare il tempo, bisogna dare il tempo, ma non sono tutti mica Harry Potter, cioè, non è che hanno la bacchetta magica, vanno lì e fanno, oh, Wingardium Leviosa, sto cazzo Wingardium, cioè, io, rimango ancora avvelenato, perché, purtroppo, questa proprietà, insulsa, ha fatto i danni più assoluti, e più totali, e tutto parte, da quel giorno lì, dove hanno messo la pietra trombale, alla stagione della Roma, esonerare Daniele De Rossi, in questo modo, con quello che è successo, con tutte le cose che sappiamo intorno, è stata la pietra trombale di questa stagione, per diversi motivi, poi, partiamo prima da, da quali sono le colpe vede della società, allora, le colpe vede della società, innanzitutto, sono, sono state quelle di, eh, prendere Ghisolfi, in maniera tardiva, cioè, il tempismo, nel calcio è fondamentale, Pinto, ha detto che, che avrebbe lasciato, la Roma, poi, spinto alle dimissioni, è voluto andare via, non lo sappiamo, ci interessa anche poco, ma il fatto è che, da febbraio, la Roma sapeva, che non aveva un direttore sportivo, e tu, due settimane dopo, ma, nemmeno, sette giorni dopo, devi avere un altro direttore sportivo, perché devi dire, tranquilli, la programmazione sportiva, è tutto sotto controllo, ce l'abbiamo sotto controllo, devi metterla sotto controllo, non che fai passare otto mesi, sei mesi, quattro, 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 e poi prendi un direttore sportivo, come Ghisolfi, che non si è nemmeno capito, quanto decideva lui, quanto decideva, decideva la, la Soloku, questo è un altro, un altro discorso, che va, che va analizzato, come fai, a dare pieno potere, dal punto di vista sportivo, a una signora, ma non perché sia una donna, ma che, nel suo, diciamo, il suo punto forte, è l'economia, non puoi, ma non puoi, perché se, io, io, un'altra cosa che voglio dire, no, in questo discorso ce lo mettiamo, perché, mi sono rotto i coglioni, di sentire sempre le solite storie, quando, penso che adesso nessuno dirà niente, perché tutti sono d'accordo, nel dire che i Fritkin, stiano facendo un macello, ma quando inizialmente, si provava a dire qualcosa, contro i Fritkin, la risposta era, ma hanno messo un sacco di soldi, i presidenti che hanno messo più soldi nella storia, ragazzi, patrimonio Fritkin, questi sono tipo, i terzi al mondo, cioè, hanno i soldi per fare una guerra, cioè, questi potrebbero andare tranquillamente contro la Russia, e bloccarla, e noi, noi stavamo dire, hanno messo i soldi, ma, loro stanno investendo, cioè, loro stanno investendo, in un progetto, che poi, un domani, vi farà guadagnare soldi, punto, e basta, perché con tutti i soldi che hanno i Fritkin, avrebbero potuto tranquillamente mettere, immettere i soldi nella società, per fare mercato, per impolpare le casse, non solo, dal punto di vista, delle finanze, per non fallire, diciamo, ma, anche da poter utilizzare come soldi sul mercato, come ha fatto il PSG, come fanno gli Arabi, cioè, usi una tua società, che fa da sponsor, per la squadra AS Roma, e usi i soldi, l'hanno fatto? No, perché evidentemente, non c'è questa voglia, lo sappiamo, non c'è nessun problema, lo abbiamo sempre saputo, ma, non mi venite a dire, che i Fritkin, sono i migliori presidenti della storia, che hanno a cuore la Roma, perché hanno messo i soldi, stanno investendo, punto, e basta, altrimenti, avrebbero fatto questa cosa qui, e andavano a prendere Mbappé, mo' esageriamo, però questa, è la verità, dopodiché, scelta ancora sbagliata, perché ti affidi solo alla Soloku, cacci via dei Rossi, tra virgolette, è vero, che la Soloku, ti ha detto, lo dobbiamo mandare via, perché la squadra non lo segue, è vero, o non è vero, questo va chiarito, è vero, che la squadra, ti ha, cercato in tutti i modi, di dire, guardate che siamo con lui, dateci tempo, non lo, cioè, ritrattate, ripensateci, e voi avete ignorato tutto, è vero o non è vero, anche questo va capito, perché la Soloku poi va via dopo sette giorni, è solo perché ha ricevuto minacce, allora, vi faccio un'altra domanda, tu che sei, un dirigente di altissimo livello, a Roma, ma te lo aspetti o non te lo aspetti, una cosa del genere, dopo quattro giornate, dove hai fatto i danni, tu società, mandi via una bandiera, a cui hai fatto tre anni di contratto, a tre milioni di euro, quindi sei stato tu il primo a dire, oh, questo è il nostro allenatore, per tanto tempo, poi, il tempo nel calcio non esiste, ma quattro partite, e lo cacci via, e poi dopo che cosa crei, crei, ma l'umore dei tifosi, che se la prendono con la squadra, quindi, io, per esempio, Pellegrini, visto che adesso ormai, si parla solo di Pellegrini, Mancini, e, e Cristante, io, dopo quattro giornate, dove tu, società, dall'inizio, di questo calciomercato, dall'inizio di questa stagione, mi hai messo in difficoltà, il mio allenatore, lo staff tecnico, la squadra, sei tu che mi hai messo in difficoltà, mi trovo in una situazione di merda, perché non sono riuscito, purtroppo, a sopperire, alle tue mancanze, quindi a sovrastare, a andare oltre queste difficoltà, ho fatto male, mi metti anche la croce addosso, del pubblico, dei tifosi, che vengono a rompermi i coglioni, perché cominciano a fischiarmi, e a dirmi, ah, hai cacciato pure un altro allenatore, vedi la core, contestazione, ma i calciatori, come si devono sentire, ma un Hummels, che tre giorni prima ha parlato con De Rossi, e ha detto, ok, no, mi piace il progetto, vengo alla Roma, e poi, con un pareggio al 96esimo, subito col Genoa, lo cacci via, ma come deve reagire, ma è ermoso, che si è messo in accordo con De Rossi, ma non stiamo mica parlando di gente, con tutto rispetto, di Sanic qua, oh, stiamo parlando di investimenti importanti, ma Sule, che è stato preso, è stato fatto un certo discorso, ma lo vogliamo valorizzare, cioè, ma non stiamo parlando mica di gente, io, ci sono tantissimi, tantissime cose, su cui non si è pensato, e ci si doveva pensare, prima di tutto ci si doveva pensare, perché, la prima cosa importante, è sempre capire dove sto lavorando, se tu stai lavorando a Roma, sai, che la cosa più importante a Roma, è che il pubblico, stia con la squadra, e che il pubblico, soffi, insieme alla squadra, se tu, fai una certa del cazzo, come esonerare De Rossi, come quella che hai fatto, poi dopo non ti puoi aspettare, nient'altro, che il casino ambientale, cioè, non può, io non sto, dicendo, non sto giustificando, che è giusto, così, che i romanisti, dovevano reagire, così, io sto solo dicendo, che, era preventivabile, ce lo potevamo aspettare, non è nessun, cioè, non c'è nessuna sorpresa in questo, era, era, era così, sarebbe successo così, voi per esempio, non sapete il mio pensiero, perché, non facevo video in quel momento, ma io la prima cosa che ho detto, ho detto, qui, se non si torna indietro, si richiama De Rossi, si fa un disastro, un disastro, perché una cosa del genere, non deve essere accettata da nessuno, cioè, io mi aspettavo, giocatori, tifosi, chiunque, andasse contro questa scelta, per dire, pieno rispetto a Juric, grande persona, grande uomo, ma, no, questo, questo non succede, perché io le palle in testa da una greca, e da due americani, non me li faccio mettere, perché decido io, perché Roma è la nostra, è questa, questa doveva essere la linea, non è stata così, perché poi anche, tra di noi ci sono tante, ehm, si sono creati tanti gruppi, i pro Murigno, i pro De Rossi, i pro Iuric, i pro che vogliono invece, Ranieri, chi vuole Allegri, che invece, quello che manca anche a Roma adesso, in questo momento, l'unione, verso chi? Verso l'unico, ehm, avversario che abbiamo realmente in questo momento, che è la società, stanno facendo i danni, hanno detto i coglioni, io prima di dire, Juric out, dico, Fritkin out, perché sono stati ottimi presidenti fino ad oggi, può essere, in questo momento, si sono dimostrati, inadatti, inetti, e devono andare via, c'è poco da dire, c'è poco da dire, chiudo così, perché altrimenti mi esplode pure a me la vena alla De Rossi, dicendo soltanto, che ci siamo rotti i coglioni, e io non mi aspetto sinceramente, che manderanno via Juric quest'oggi, è per questo, che ho deciso di fare un video, invece di aspettare i comunicati, che non arriveranno, perché loro, di andare, di tornare indietro, e ammettere che hanno fatto i danni, ammettere che hanno sbagliato, non lo faranno, un terzo allenatore, ma perché lo devi prendere? non lo faranno, lo sapete perché anche, perché metti ancora più pressione sui calciatori, e questo i calciatori non lo vogliono, preferiscono a sto punto, di rimanere con Juric, e provare a andare, devono pagare due persone, anzi tre, e loro questo non lo vogliono, perché anche dal punto di vista economico, sarebbe una scelta folle, e quindi, state tranquilli, la Roma continuerà con Juric, e rimarremo, nella nostra mediocrità, va bene, un abbraccio.